Ciao amici, buongiorno, è un po' che non ci vediamo, finalmente oggi possiamo fare questo tutorial al cui tengo molto, che molti di voi mi hanno chiesto e vedremo insieme tre manove fondamentali per sapere se sappiamo usare bene il nostro drone. Sigla! Eccoci qui con Xiaomi X8 SE, un grande drone, lo sapete, qui ho fatto dei video in cui ho avuto dei problemi all'inizio, però è un drone eccezionale, il nuovo aggiornamento funziona molto bene, l'ho aggiornato proprio un paio di giorni fa, quindi vediamo con lui queste manovre che io ritengo importanti per capire se noi sappiamo bene comandare il nostro drone. Tre esercizi, il primo esercizio sarà un quadrato con la prua in avanti, il secondo esercizio sarà un quadrato con la prua indietro, il terzo esercizio sarà il volo in diagonale formando una X. Accendo il drone e ci vediamo in campo volo. Eccolo qua il nostro Xiaomi X8 SE, l'ho preso apposta un po' grandino perché così, come dire, possiamo vedere bene. Accendiamo anche il GoPro in modo da poter vedere come funziona il radiocomando. Cominciamo a fare la prima manovra che è il quadrato. In cosa consiste? Il quadrato del drone con la prua a favore, quindi il drone compierà un quadrato ruotando sul proprio io sempre lato destro e andando sempre in pitch avanti con il movimento del motore in avanti. Vediamo il primo esercizio. Un quadrato, quindi andremo ad agire sostanzialmente di pitch in avanti, ce lo ricordiamo, questo è il pitch, di io per ruotare il muso. A questo punto la prua è verso la mia destra, se io do il pitch a destra il drone avanza verso destra. Ruoto il muso verso di me, quindi con uno io sempre lato destro, a questo punto porto il drone con il pitch in avanti e vedete che si sta formando sostanzialmente un quadrato. Lo sto portando all'ultimo lato del quadrato, lo ruoto di nuovo con io a destra e porto il mio drone davanti. Quindi in questo caso ho compiuto il mio primo quadrato. Lo rifacciamo, ci portiamo in prima posizione, per così dire, quindi sul lato basso del quadrato, di nuovo porto avanti. A questo punto lo farò di conseguenza, di seguito, quindi ruoto mentre tengo avanti, rallento leggermente, di nuovo dal pitch in avanti, rallento leggermente, io di nuovo pitch in avanti, rallento leggermente e vengo più in avanti, io verso destra e completo l'ultimo lato del quadrato, ok? E questo è il primo esercizio che vi volevo fare vedere, quindi il quadrato in avanti, quindi con la prua del nostro drone in avanti. Secondo esercizio, secondo esercizio amici di un arc, complichiamo un po' le cose, cioè mettiamo il drone invece che con la prua a favore, con la prua dovesciata verso di noi. A questo punto è chiaro che il movimento del drone sarà utilizzando il roll, perché sostanzialmente compieremo un esercizio che fa questo tipo di movimento, in cui noi andremo a fare sempre il roll ruotando lo yo sempre verso sinistra e dando il roll sempre destro e così vediamo come lo spostamento laterale del drone influisca quando invece la prua è contraria, ok? Ricordatevi quello che vi ho detto un'altra volta, ragionate sempre nell'ottica che l'orientamento del vostro radiocomando è equivalente all'orientamento del drone, quindi in questo caso questo per me è la prua. Quindi facciamo un quadrato rovescio, cioè con il drone che ha la prua verso di me, quindi come se avessi il radiocomando posto in questa posizione, ok? Ci siamo? Ho un comando in cui il mio roll a questo punto va verso sinistra, il drone andrà a destra, perché vi ricordo è come se avessi questa posizione, quindi se vogliamo andare a destra faccio questo, ma in realtà sto usando il roll a sinistra, ci siamo? Proprio perché è invertita la prua del drone, quindi porto il drone verso la mia destra, contemporaneamente faccio io a sinistra, porto il drone verso di me con roll a destra, faccio io a sinistra, sempre roll a destra, faccio io a sinistra, sempre roll a destra, faccio io a sinistra. Ecco, cosa ci ha insegnato questo quadrato? Ci ha insegnato che sostanzialmente in un quadrato il movimento del drone, che in questo caso è stato laterale mentre prima era frontale, viene fatto mantenendo sostanzialmente lo stesso movimento di roll o di picce. Roll destro e uno io sinistro. Terzo e ultimo esercizio, forse il più complicato di tutti, il movimento a X, cioè il drone si sposta in diagonale su due punti, quindi che vuol dire? Vuol dire che il drone lavorerà di pitch e di roll in questo caso, solo di questi due comandi, ma chiaramente la componente sarà diversa a seconda che il drone sia con la prua a favore, con la prua contraria in cui i comandi saranno invertiti e poi la più difficile è quando il drone avrà le prue sul lato destro e sul lato sinistro, ok? Ed è questo esercizio. L'esercizio è la diagonale. Come si fa a fare la X? Porto il drone, all'inizio me lo faccio facile, quindi la metto con la prua a favore. In diagonale che vuol dire? Devo dare una componente di pitch e di roll che faccia andare il drone in questa direzione, mi capite? Quindi siccome il mio radiocomando è orientato come il drone, cosa devo fare? Non faccio altro che mettere gli stick in questo movimento, lo capite? Vedete? Porto gli stick a 45 gradi. Con questo non faccio altro che fare una componente, contemporaneamente, di pitch in avanti, in questo caso, e di roll destro. Pitch indietro e gli roll sinistro. Quindi è chiaro che io la diagonale la realizzo dando due componenti, pitch e roll. Pitch e roll. Oh, finché la prua è in questa posizione, non è difficile. Quindi con la prua in avanti, la diagonale non è altro che un posizionamento a 45 gradi del mio stick. Complichiamoci l'esistenza, per così dire. Mettiamoci con la prua all'incontrario. Quindi è come se io avessi messo il mio radiocomando in questa posizione. A questo punto, se io voglio fare la mia diagonale, ricordiamoci che adesso lo stick di lavoro è questo. Se io voglio fare una diagonale verso anteriore destro, cosa farò? Farò questo movimento, no? Ok? Posteriore destro, perdonatemi, anteriore sinistro, farò questo movimento, no? Lo vedete? Me lo porto lentamente verso di me. Ora è evidente che questo non lo posso fare, quella di comando all'incontrario, ma ho capito come funziona. Funziona all'incontrario, no? Chiaramente essendo la prova verso di me, se io voglio fare un comando che mi porti il drone all'indietro verso la sua destra, farò questo. Ok? Se io voglio un comando che mi porti il drone frontale sinistro, farò questo, perché la prua è dovesciata. Quindi inverto, è proprio facile in qualche modo, perché è come invertire i comandi. Se io voglio fare il movimento che il drone viene verso la mia anteriore destra, cosa devo fare? devo fare anteriore, quindi piccino avanti, ma non a destra, ma a sinistra. E farò quindi la diagonale anteriore sinistra. Se io voglio fare, mi metto in questa posizione, la diagonale posteriore destra, cosa farò? Farò il movimento del drone posteriore sinistra, ok? Io spero che sia chiaro, all'inizio sembra difficile, però insomma, in sostanza, il principio è questo, con la prua girata verso di me devo invertire mentalmente i comandi. Eccoci qua, complichiamoci la vita. Facciamo in modo che il nostro drone abbia la prua orientata a destra o a sinistra. In qualche modo, in questo caso, è come se il drone fosse così, ok? Qual è la componente? Devo andare verso il lato destro. Siccome il drone è orientato a sinistra, è chiaro che io devo dare il comando verso destra, no? Quindi il roll è destro. Siccome devo andare verso l'angolo, praticamente, ecco che io, vedete, c'è una retromarcia, no? La componente è fatta da un roll che è necessariamente destro, perché la prua è a sinistra. Se dovendo andare indietro, il roll è destro, la prua è a sinistra, quindi il roll destro e il pitch indietro. E quindi questo movimento qui. Lo vedete? Spero che ci sia visto. Mettiamoci adesso sull'altro lato, qui. Quindi facciamo che voglio venire a diagonale X che va da questo punto, dal punto B, al punto D. Quindi deve venire in avanti a questo punto, verso la sinistra. Quindi cosa farà? Un pitch all'indietro e un roll sinistro, ok? E viene verso di me, va bene? Ma giriamoci dall'altro lato, sarà ovviamente invertito. A questo punto è come se il radiocomando fosse tentato in questo modo. E siccome la prua è a destra, se voglio mandarlo, come dire, lontano a me, devo andare a sinistra. Una volta che ho capito come si muove, è chiaro che se io voglio mandarlo in diagonale all'indietro, non farò altro che fare questo comando, ok? Bene. Quindi ricordiamoci, quando vogliamo fare le diagonali, dobbiamo ricordarci sostanzialmente di invertire i comandi nel caso che la prua sia verso di noi e invece più complesso è ragionare sull'alentamento della prua rispetto alla posizione nostra. Quindi se la prua è in questo caso a sinistra, vuol dire che se la voglio allontanare, devo dare il roll destro, ok? Bene, ecco qua il nostro Xiaomi, lo giriamo a fuori telecamera, facciamo fare un saluto a tutti quanti gli amici di Unark, diciamo ancora questa volta si è comportato alla grande, c'è stato un po' di vento, ma insomma... Cominciano anche tutto anche per oggi, spero vi sia stato utile, io spero che questi comandi li possiate fare, ricordatevi sempre di volare vicini, tre semplici regole, la prima volate vicini, la seconda volate in zone come questa, dove non c'è sostanzialmente nessuno, questo è fondamentale, non rischiate di fare male alle persone all'inizio, per favore. E la terza regola, utilizzate se volete quel piccolo trucco che vi ho insegnato, quello di ruotare il radiocomando secondo la priorità del drone. È un piccolo trucco, lo so, non va utilizzato quando si vola, ma all'inizio sarà fondamentale per capire come funzionano gli stick e qual è la logica del movimento degli stick. È molto importante secondo me, la prossima settimana, non voglio anticiparvi niente, ci sono degli arrivi che sto aspettando fra lunedì e martedì, qualcosa di clamoroso che non vi aspettate, e spero di potervi fare una grande sorpresa, anche fuori se volete dal mondo dei droni, giusto per amperare i nostri, come dire, orizzonti. Vi ringrazio, iscrivetevi al canale, siete più di 1800 iscritti, attivate la campanellina qui sotto se volete rimanere sempre aggiornati. Il sole è qui, gli occhi non si vedono, ma non penso sia un problema. Ci vediamo la prossima settimana, ciao da DroneArc! Grazie a tutti!